Partiamo da Zanetti. Questo suo video, questo video di Riccardo, è su appunto lui che racconta i suoi investimenti. Intanto complimenti per il coraggio, si è messo in gioco, ha voluto aprire le sue finanze un po' come faccio io e mostrare ogni centesimo che possiede e questa è una cosa a cui do molto valore e quindi grande, grande Riccardo. Però volevo un po' commentare la sua esposizione, i suoi asset, il suo portfolio e così via. Intanto però direi che, come ho già detto, grande, grandissimo che ha avuto il coraggio di fare una cosa del genere. Lo spreadsheet assomiglia un po' al mio però eh. Grande Riccardo, grande Riccardo. Ho fatto anche una chiacchierata con lui un paio di mesetti fa. Assomiglia alla colonna della currency, la colonna della currency singola lettera. Mi fa piacere, mi fa piacere qualcuna cosa di ispirazione. All'interno del mio patrimonio, passando poi per tutti i miei portafogli, arrivando a quant'è la mia liquidità, quanti soldi cash ho ed infine facendovi vedere tutti quelli che sono i miei investimenti alternativi. Per poi concludere come sempre, forse la parte anche più importante, con un commento conclusivo e tutti quelli che sono i progetti futuri di gestione di questo patrimonio. Detto questo come se... Certo, tu le fai il financial update in undici minuti, ci metto due ore. Sempre vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare qualsiasi spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io in questa rubrica condivido la mia esperienza nella speranza che possiate trovare delle informazioni. Allora, non esprimo pareri sul personaggio, sulla persona, ci ho anche avuto degli scambi verbali, però analizziamo l'allocazione, quindi non è un endorsement né un dissing al momento. Ma in genere non lo è mai. Quando sono cresciuto in Google con il concetto di si critica sempre, magari anche duramente, l'idea, mai la persona. Quindi in teoria non voglio fare alcun al momento. No, no, no. Informazioni utili e magari nei commenti possiate lasciarmi qualche feedback costruttivo. Ok, andiamo avanti. Il più grande portafoglio qui è su Interactive Brokers. Ok, bravo. Dove sto accumulando due ETF, uno sui mercati emergenti e... Allora, Eimi, due ETF. Abbiamo Eimi sui mercati emergenti, ci sta, è un buon ETF, direi. Quantità, valore di mercato, 46.000 dollari. E 47.000 su questo Lixor Core MSCI World. Ok, un MSCI World, LCWD. Non conosco in particolare questo specifico World. Non so neanche se si può parlare o no. Cerchiamo al volo LCWD, JustETF. LCWD. Vediamo un po'. Lixor Core MSCI World. JustETF è il mio engine di ricerca ETF domiciliati in Europa. Ok. LCWD. Parliamo di un ETF economico, grande. L'indice di riferimento è MSCI World. DR. Vediamo un po'. Tiriamo giù al volo. Comunque, mi sembra un prodotto che va molto bene. Accumulating. Usits Compliant. Replica fisica. Asset Under Management. Molti. Questo DR, non so bene per cosa stia, però è un ottimo ETF World. Approved. Approved. RIP Approved. E poi EIMI. EIMI è un ottimo ETF, mercati emergenti. Mi stupisce l'esposizione più o meno 50%, 50%. Direct Replication. Ok. Nonotom chiede che senso ha investire in così tanti strumenti quando può investire in WCA e ridurre i costi. Vabbè, comunque sono due prodotti a costi molto bassi. E' ok. In teoria, anzi, in questo caso qua, Riccardo ha voluto esprimere un'opinione, cioè voglio investire 50% in mondo sviluppato e 50%, stessa cifra più o meno, su mercati emergenti. Quindi, se avesse preso un All Country World, avrebbe investito 91% developed e 9% emerging. Ora, questa è un'opinione che ha espresso, si sta sovraesponendo di tantissimo sui mercati emergenti. E' una scelta, non la condivido, è un po' troppo aggressiva, però è una sua scommessa. Comunque, sta usando prodotti molto efficienti, qua. Vedo però un sacco di altre roba. Vedo non pochi, cioè qui parliamo di circa 94.000 in ETF e qui abbiamo altri 25-24.000, sto mischiando ovviamente dollari, euro, franchi, vabbè. Quello che è, le currency sono tutte quante lì. Vedo altri 24, circa un 25% di quanto investe in ETF, in stocks individual, in individual stocks. Baba, Meta e Huia, che non so cos'è. Ok? Perché 20% su stocks individuali? Magari ora ce lo spiega, però ovviamente sono scelte. Oltre ad avere altre tre posizioni su Alibaba, Meta e Huia. Qui le uniche aggiunte rispetto allo scorso mese sono sui due ETF, ho investito rispettivamente 3.000 dollari e 3.000 dollari. E come potete ben notare, nonostante abbia investito 6.000 dollari in questo portafoglio, la sua grandezza è rimasta comunque identica. Comunque identica, più o meno, perché a febbraio è stato un mese brutto. Come tutti avrete visto, i mercati sono scesi. Andando avanti con il foglio Excel, il mio secondo portafoglio qui è su Trading212. In questa piattaforma ho una torta a tema tecnologico che ho anche descritto in un mio vecchio... Allora, secondo broker, Trading212. In questa piattaforma ho una torta a tema... 45.000 sterline. È in lieve tecnologico che ho anche descritto in un mio vecchio video. Ha una torta tecnologica, quindi ha un bel po' di stocks individuali tecnologiche. Microsoft, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Google. Quindi altri 45.000 sterline in tech. Quindi cominciamo ad avere individual stocks, tutte tech, perché anche quelle che ha su Interactive Pocket sono tech. 45.000 sterline, ci fai 50.000 euro, più o meno, credo. Più altri 20.000, siamo a 70.000. Siamo quasi 50% ETF, tra l'altro un po' molto sovraesposti in emergenti. E un quasi 50% individual stocks. Allo scorso mese ho investito a Tencent, Qualcomm, Vidia... Altre 2.000 sterline all'interno di questa torta. E come potete vedere, rispetto allo scorso mese, questa torta... Ok, in merce, non ce l'ho cascato anch'io. ...sta ben performando, quindi ottimo lavoro, anche se poi io ho scelto queste posizioni da mantenere per i prossimi 5-10 anni. Quindi è tra 5-10 anni che dobbiamo tirare le conclusioni. Comunque vi ricordo che se foste interessati a Trading 212, qui... Ecco, il problema che ci sarà, e sarà molto frequente, è che praticamente il Basso Lazio è un affiliate a perdita d'occhio, su ciascun prodotto che ha l'affiliate. Quindi magari Interactive Brokers, vai con il link bonus, chi sono io per giudicare. Però se hai 70 broker diversi, sta roba qua potrebbe essere un po' troppo. Uno si chiede, ma hai 50 prodotti perché vuoi fare solo affiliation, oppure perché li avresti fatti comunque. Questo è un po', anche a me blocca, cioè io non ho affiliation con prodotti finanziari su cui non sono esposto in prima persona. Però credo che lui ha vissuto in Inghilterra per un po', quindi quella piattaforma l'ha aperta mentre era in Inghilterra, può essere sensata. Finora, perché non mi piace la sua esposizione? Perché è fortemente orientata a individual stocks, anche se ne ha tante, e quindi avendone tante c'è un po' di diversificazione, in teoria. Una volta, prima della nascita degli index fund, si riteneva che già 20 stocks diverse, purché vendute e ricomprate ogni anno diverse, e non tenendo sempre le stesse, perché se no una buona parte di queste vanno comunque a morire. C'è un po' di diversificazione, ma tutto quanto è in settore tecnologico, per cui c'è forte correlazione. Quindi quello che il buon Ben Felix direbbe a Riccardo, gli direbbe hai tantissimo uncompensated risk, quindi hai tantissime stocks individuali, molto correlate tra di loro, che potrebbero overperformare. Abbiamo una bias di ciò che ci è appena successo, un recency bias, e quindi tech negli ultimi dieci anni è andato molto forte, però nel 2022 in realtà è andato peggio del resto del non tech. Quindi troppa esposizione in individual stocks, e nel mondo ETF troppa esposizione ai mercati emergenti. Questo è quello che direi se di fronte avessi un ragazzo che ha ereditato i soldi dei genitori e avesse un cash flow basso. Riccardo probabilmente ha un cash flow molto alto, quindi può permettersi di essere più aggressivo, ovviamente, non c'è una strategia giusta in termini assoluti, ma è molto soggettiva. Quindi se è una persona che è per niente avversa al rischio e ha un cash flow molto positivo, è molto giovane, ci sta che la sua esposizione sia più aggressiva della mia, questa finora mi sembra un po' troppo aggressiva. Qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico, tramite il quale se vi iscrivete e depositate qualcosa nella piattaforma potete ottenere come bonus un'azione che valga fino a 100€. Tra l'altro poi se vi interessa dentro la piattaforma trovate il mio profilo e potete vedere la torta tecnologica che sto portando avanti e che vi faccio vedere qui ogni mese. Dopodiché sempre all'interno di questo portafoglio ho altre due posizioni, una su Malibu Boats e una... Allora, quindi abbiamo 55.000 sterline, mi sembrava la lettera 46, quindi 55.000 sterline più 6.000 su Malibu Boats, magari comprate sotto pandemia, non lo so, e un po' di Tesla. Quindi ormai la parte individual stocks ha superato gli ETF, credo. Entrambe in positivo rispetto... Asset Liability, lo sento, grande Riccardo, grande Riccardo. A me fa stra piacere se qualcuno copia il mio spreadsheet, sono stra contento, fa molto piacere. Credo che sia... Asset Liability sembra il mio, però fa molto piacere. Aspetto allo scorso mese, quindi bene. Passando al mio terzo portafoglio... Mi spiace che giudichi la qualità dei suoi investimenti, forse sto ragionando io ad alta voce, dire questo portafoglio bene perché è andato su, ok, è il giudizio mensile che do anch'io sui miei investimenti. In generale, però, il fatto che sia andato bene il mese precedente non significa che sia una scelta accurata. Comunque, ancora ripeto, tanto di cappello. Primo per la trasparenza e secondo per star sperimentando con prima persona come funziona investire in proprio senza affidarsi a qualcuno. Magari, in questo caso, può darsi che una revisione potrebbe non fare bene, cioè non sarebbe sbagliata una revisione. Via. Il portafoglio è sempre su Trading212, ma su Trading212 ISA, un portafoglio speciale che utilizzavo quando ero residente nel Regno Unito. Qui non sto più toccando e aggiungendo nulla alle posizioni. Ok, questo è un altro, altri 50k, su un altro portafoglio su Trading212 ISA, che sarebbe il, come il IRA americano, che è un fondo pensione. Lui è stato lavorato, è vissuto in Inghilterra, ha lavorato lì, ha dovuto versare dei contributi pensionistici e immagino che l'ISA britannico sia un po' come l'IRA americano e quindi sia un altro, puoi usare strumenti per investire come vuoi. Un po' come i terzi pilastri pensionistici che uso io. Ancora meglio, per cui puoi diventare investire in individual stock, quindi nei terzi pilastri pensionistici svizzeri sono un po' limitato in alcuni fondi, in alcune cose che posso fare. Però questo è un altro portafoglio pensionistico, quindi Tax Advantage, quindi sono soldi pre-tax, su cui poi forse pagherà delle aliquote, non so di che tipo. Berkshire Hathaway, iShare e IME, un'altra volta, e allora con CAM, 10, 20, 40, questo penso che sia tutto, e quindi 10k sterline sull'azienda di Warren Buffett, 22.000 su... no, questo qui è... questo è IWDA, cos'è? SWDA, non c'è scritto, ma è Word. Emerging Market IME, non so bene che prodotto è. IShare Core, penso che sia MSCI, Emerging Market, Investable Market Index, quindi potrebbe essere IME. Comunque, Emerging Market. Berkshire Hathaway, che è una compagnia singola, però ci sono un po' di... c'è chi dice, no, se investi in Berkshire Hathaway hai praticamente un fondo a gestione attiva. Non è proprio vero, non funziona così, non è un ETF, Berkshire Hathaway, è comunque un'azienda che oltre ad avere asset su cui investe, l'azienda di Warren Buffett, ha le dinamiche di azienda, per cui il prezzo può tranquillamente andare fuori dal valore del sottostante, perché è quanto è l'emotività del mercato, non è un ETF che replica una somma di sottostanti, quindi storicamente ha battuto l'indice, ma negli ultimi n anni non lo sta più battendo, per cui non è detto che sia la scelta migliore, però 10.000 su Berkshire Hathaway, 22.000 su un Emerging Market ETF, e questo qui è MSCI USA, quindi questo portfolio è un po' investito in America e un po' in mercati emergenti. Mi sembra di percepire che manca una visione di insieme, quindi io una cosa che spesso suggerisco a chi arriva da me con 50 piccoli pezzi di investimento su 50 diversi prodotti è del tipo, ma ce l'hai un modo per aggregare, per vedere come stai investendo nell'insieme? Hai un modo per dire quanto stai investendo in stocks, come sei esposto, quanto stai investendo in bond, come sei esposto o in altri prodotti, perché se no è un casino, uno giudica ciascun prodotto indipendentemente e a caso, cioè ok su questo portfolio faccio un po' così, questo un po' colà, ma complessivamente come sei esposto? Mi sembra di percepire che non c'è visione di insieme. All'epoca come potete vedere accumulavo un ETF sull'S&P 500, uno sui mercati emergenti, e Berkshire Hathaway, e come potete vedere rispetto allo scorso... In teoria MSCI USA non è S&P, fondamentalmente è tutta l'America, credo. ...questo mese questo portafoglio è leggermente negativo, dato che i mercati, come dicevamo prima, nel mese di febbraio sono leggermente discesi. Dopodiché andando avanti, sempre parlando di mercati finanziari, ho due portafogli con due RoboAdvisor, uno su Nutmeg dove avevo il... Ok, questo è un altro prodotto RoboAdvisor UK, Nutmeg, abbiamo 18.000 sterline, il giallo penso che siano le contribuzioni, il blu è l'andamento, vediamo un po' che risk level 10 su 10, wow Zanetti, è coraggioso, è coraggioso, coraggioso. Un po' più prudente. ...dai Fly Maisa, quando ero residente nel Regno Unito, questo non lo tocco più, non investo e non tolgo più niente, rispetto allo scorso mese è leggermente negativo, e uno su Money Farm che come sapete stop... Ok. ...provando insieme a voi, dove ogni mese... Money Farm, bond, inflationary bond, investment capital bond, high yield emerging market bond, quindi ho Money Farm a massima esposizione, a massimo rischio, Money Farm UK, o Money Farm Italia, Money Farm... ...no ancora... ...farm che come sapete sto provando insieme a voi... ...sì, è Money Farm UK. Money Farm UK ha dei fee molto più ragionevoli, di Money Farm Italia, di che parliamo qui di 20k, ...danno lo scorso mese è leggero. ...18k. Se andiamo su Money Farm UK... ...io non sono un grande fan dei RoboAdvisor, ai prezzi che hanno. Money Farm UK, quindi non quello italiano, arriva il claim ad avere i fee as low as 0.25%. Se mettiamo 20k sterline, che dice qui, a 20k sterline il fee di base è 0.65%, so che Money Farm.it ha quasi doppi, on top del 0.21% dei fondi, on top del market spread, ogni volta che c'è un ordine viene messo market order, per cui c'è uno spread, arriviamo a 0.95%. Quello italiano va molto peggio, perché se non sbaglio, fino a certe cifre parliamo dell'1%, più IVA, 1.23%, più un 0.22% circa del sottostante, siamo a 1.5%, o 1.5% troppo. Qui se mettiamo, aggiungiamo uno 0, a 200.000 sterline, il Money Farm fee medio scende, scende ragionevolmente, però se sommiamo anche tutto il resto, questo è un fee che c'è on top, arriviamo a 0.75%, se uno Money Farm UK ci lancia 2 milioni, abbiamo dei fee quasi ragionevoli, però c'è un altro problema, c'è un altro problema, che Money Farm, un paio di volte ultimamente, uno a bottom della pandemia, e uno una volta anche proprio recentemente, prendono e debotto decidono di fare i ribilanciamenti a tua insaputa, quindi ti trovi con, ti trovi con, ehi è il 25 marzo 2020, al bottom del mercato, ehi abbiamo deciso che i profili più rischiosi, siamo meglio a essere meno esposti alle stocks, quindi al bottom ti hanno venduto le stocks. Comunque, come spesso mi chiedono le mie opinioni sui RoboAdvisor, io non pagherei mai oltre 1.0.3% di servizio, ma io neanche quello credo, però qui se vediamo, cifre superiori a 0.3%, io personalmente non lo pagherei, però anche qua, Money Farm, no questo è My Note, è uno su Money Farm, Money Farm 15.000 sterline, ovviamente una delle ragioni per cui c'è anche Money Farm è perché c'è anche l'affiliate, anzi immagino che essendo Zanetti un creator grande, 320.000 iscritti, le sue affiliation siano buona parte, una grandissima risorsa di entrate, per cui a sto punto mi faccio portfolio con tutto l'universo, questo è un po' il problema, si fa difficoltà a giudicare perché non si capisce quanto ci sia di organico e quanto di advertised. Come sapete sto provando insieme a voi, dove ogni mese investo 500 sterline e si trova in questo stato, se vi dovesse interessare, entrambi i RoboAdvisor sono settati con il profilo di rischio più alto, dato che il mio orizzonte temporale è molto lungo. Chiaro, chiaro, chiaro. Andiamo avanti, passiamo a un'altra tipologia di investimenti, qui si parla del mondo del peer-to-peer lending, per fare semplice prestiti ad aziende, ok, peer-to-peer lending, quindi ok, finora abbiamo visto un po' di ETF, un bel po' di individual stocks, quasi tutte tecnologiche, e zero bond, finora zero bond, ma passiamo all'altra asset class che è il peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending, ho dei problemi con questa asset class, ho qualche problema, perché? Perché c'era un'epoca, un po' di anni fa, in cui tutti i blogger di personal finance, facevano peer-to-peer lending, e ti spammavano, c'erano 100 piattaforme, ciascuna col proprio link di affiliazione, i più famosi erano Bondora, Mintos, e ci fu un periodo, mi sembra attorno al 2019, che ne fallirono 4 o 5, e c'era anche un famoso blogger, non ricordo bene come si chiama, tipo European Investor, un nome molto generico, che era stato abbastanza bombardato, ha dovuto chiudere il blog, perché aveva promosso tutti questi peer-to-peer lending scammosi, mi sembra tipo, ci fu Keuzal, Investio, c'erano 4 o 5 che fallirono, comunque cos'è il peer-to-peer lending, è prestare soldi a sconosciuti, con piattaforme, che si pigliano tipo il 50% di fee, quindi immaginate, l'inefficienza che c'è, quindi i vostri soldi vengono prestati, non lo so, al contadino afgano, che paga il 30% di strozzinaggio sopra, a voi arriva il 15%, se vi arriva, quindi c'è un bel po' di volatilità, di rischio, uncompensated, non consiglio, non consiglio di investire in peer-to-peer lending, giusto per giocare, c'è anche molta attività dietro, non è che tu setti un profilo, e clicchi ok, stai investendo in peer-to-peer lending, ma sulle piattaforme, spesso devi prendere di più di una, perché vuoi diversificare il rischio, perché sono tutte quante mezze scamose, devi andare a mano, a scegliere, a cliccare, tanto lavoro attivo, ritorni attesi, quello che ho visto, si puoi fare un qualche punto percentuale l'anno, ma tanto lavoro, tanti rischi, uno dei motivi per cui la gente lo fa, è per dare i link affiliati, Bondora, 6,75 anno assicurato, quelli con assicurazione sono i peggiori, sono i peggiori, c'è un post sul mio blog, vediamo un po', retireinprogress.com, P2P lending, the good, the bad, and the ugly, e soprattutto questo qua, guest post, che ho fatto, dove sta? no, ah sì, ho fatto un post con, invitando un mio amico a parlare, lui era uno molto dentro al P2P lending, che dopo questo post mi ha scritto, mi ha fatto riflettere, e ha smesso di fare il P2P lending, gli ho fatto molte domande, molte domande abbastanza aggressive, abbastanza aggressive, e via, rischi, quindi straconsiglio il mio post su, the good, the bad, and the ugly, the good è abbastanza breve, the bad, and the ugly sono molto molto lunghi, con domande e risposte al mio amico, aggressive, e così via, vediamo un po' Zanetti come investe, grazie a Anzianoschi, o persone che ci riconoscono un interesse, in cambio di questo prestito, qui investo in tre piattaforme, Bondora, dove per la maggior parte, si vanno a fare prestiti a persone, EvenFi, dove per la maggioranza, si vanno a fare prestiti ad aziende, e Ray Crowd, piattaforma italiana, introdotta proprio negli scorsi mesi, dove si vanno a fare prestiti per progetti immobiliari, il mio capitale in queste piattaforme, non flutua molto, anzi ogni mese, vi vengono riconosciuti degli interessi, quindi tendenzialmente, a meno che un progetto non fallisca, il mio capitale va a aumentare mensilmente, vabbè, esposizione circa 20, 22 mila, 8, 16, 21, 23 mila, 23 mila euro, comunque non pochissimo fino adesso, di questi interessi, poi come vi dicevo prima, in questo video io vado molto veloce, in descrizione, anche di queste tre piattaforme, trovate approfondimenti, e addirittura di alcune di queste piattaforme, trovate anche una mia recensione, oltre al fatto che se poi doveste essere interessati, trovate anche un mio link in vita a un amico, se poi volete iscrivervi, e avere qualche bonus all'iscrizione, date sempre un occhio in descrizione, proseguendo con il foglio Excel, siamo arrivati alle cripto, come vi ho già detto lo stesso, ok, si va sempre salendo come profilo di rischio, quindi i bond, i bond ci si sono dimenticati, scorso mese, in questo momento sto accumulando settimanalmente, 1100 dollari, 85% bitcoin, 15% ethereum, utilizzando due piattaforme, OKEx e Binance, tra l'altro, OKEx mai sentita, Binance sentita, 85 bitcoin, 15 ethereum, ci sta, è un portfolio prudente, nel mondo cripto, ci sta che se uno creda, lui penso che sia abbastanza cripto entusiasta, ci sta che investa, investa, che compri e holdi questi soldi virtuali. Di quanto parliamo? Vi ricordo che in descrizione trovate ancora il mio link, invita un amico per OKEx, perché in questo momento hanno un super bonus, una mystery box del valore di fino a 10.000 dollari, che potete ottenere se vi iscrivete tramite quel link e depositate 50 dollari, in ogni caso, come vi dicevo, nulla è cambiato, sto continuando ad accumulare settimanalmente 1100 dollari, tra l'altro bitcoin e le cripto negli ultimi... 1100 settimanalmente? I mesi hanno avuto anche un discreto rendimento, quindi bene, anche se questo mio piano da 1100 dollari, ha un orizzonte temporale di 18 mesi, quindi vedremo tra 18 mesi. Perché 18? Cioè stavendo un pack su 18 mesi, poi dopo che vende tutto e scappa? Qual è il senso? E quindi una speculazione nel breve termine? Cosa succede? Dopodiché vi sottolineo che ho prelevato quel che rimaneva da Nexo, perché dopo BlockFi e Celsius, non vorrei mai che succeda quanto, che ho prelevato quel che rimaneva da Nexo. Ma questo Mystery Box è fisicamente un pacchetto. Pac a 18 mesi? Beh, è fatto settimanalmente, quindi vengono 18x4 circa, oppure un anno e mezzo, 52 più 26, vengono un bel po' di acquisti, però è una micro speculazione, 18 mesi. forse dopo 24 mesi, comunque... Ok. Quindi abbiamo, parliamo di... Vabbè, dai, non sono tantissimi soldi. Non so tantissimi soldi. Perché dopo BlockFi e Celsius, non vorrei mai che succeda qualcosa anche a Nexo, perciò per prevenire, ho prelevato quel poco che rimaneva. Nexo. Nexo. Sarebbe brutto che ci fosse anche l'affiliate a Nexo. Mamma mia. Ok. Bella VPN. Nexo non lo vedo. Ok. Quanto meno quello che ha cancellato non c'è il... Però ecco, Riccardo, feedback personale, è tutta una pubblicità, tutta una pubblicità. Non capisci, c'è del valore in questo video. È interessante, grazie, però è tutta una pubblicità. Utilizzando quei soldi per il piano d'accumulo che vi ho appena descritto. Dopodiché, sempre qui nella parte crypto, ho altre due posizioni di vecchie rimanenze di staking che avevo ancora prima che il mercato... Questo non l'ho ben capito. Vecchie rimanenze di staking, di che pro... Civ, DAO, 1inch, FTM, Kronos, Spell Token, cioè la maggior parte del suo portfoglio crypto è in queste vecchie old sparse, vecchie rimanenze staking che è più o meno più di quanto ha in Bitcoin ed Ethereum. Non l'ho capito. di vecchie rimanenze di staking che avevo ancora prima che il mercato crollasse e quindi le sto semplicemente lasciando lì e aspettando che si sblocchino dei investenti, dei investenti, insomma, capendo pian piano cosa succede man mano che il mercato crypto si investe. Però voglio sottolineare che queste non le sto toccando, sono vecchie rimanenze. La parte importante che sto accumulando su OKEx e Binance in Bitcoin e Ethereum. Detto questo, proseguendo, passiamo a tutti i miei investimenti alternativi e le mie posizioni. Arrivano quegli alternativi adesso. OK. Riccardo, un bel BTP, un bel bond. Liquide. Qui abbiamo una parte di private equity. Queste sono tutte aziende di cui possesso una percentuale anche piccolissima. OK. Mi spiace che ogni volta che blocco il video compare la barra. Non so come fare, non fa non metterla, è fastidiosa. però abbiamo, OK, due posizioni di size media tra OKEx e Curve, una posizione minuscola in Startup Italia e una molto grande in Horizon. Ho acquisito o investendoci tramite accordi privati o crowdfunding o lavorando in cambio di merci o miei servizi. All'interno del mio patrimonio scrivo soltanto la cifra alla quale le ho acquisite, anche se per esempio per quel che riguarda Horizon in questo momento la valutazione di quell'azienda è più che triplicata. Stessa cosa vale per Curve. Però io per rimanere conservativo fin quando queste aziende non verranno vendute considero soltanto l'ultimo scambio. Ora mi ricorda quello che faccio io. Andando avanti con il foglio Excel qui potete vedere ogni mio conto con la rispettiva liquidi. Allora e cosa si intende per Private Equity? Sono investimenti in aziende non quotate. Per cui se io ho un pezzo della pizzeria di mio zio, se io ho un pezzo di una startup o delle share o delle percentuali posso... Quelle sono Private Equity. Diventa Public Equity quando vengono quotate in borsa. Questa è la parte Cash Liquidity. Bello, bello. Si chiama Cash Liquidity anche a me. Cash Liquidity. Grande Riccardo. Grandissimo. Asset liability di Cash Liquidity. E sono orgoglioso perché questo mi sembra di riconoscere. Mi sembra di riconoscere il linguaggio. All'interno di quel conto? Quante currency però? Ha gestito 5 currency, eh? Dollari? Sterline? Euro? Diram? Cosa che mi fa ridere? Dallo scorso mese quando ho condiviso per la prima volta esattamente quanti soldi ho la domanda che mi viene più fatta dagli amici è cosa stai nascondendo? Potete crederci o meno non sto nascondendo nulla. Questo è esattamente tutto quello che ho. E come ho già detto mille volte vorrei cercare di sbandierare questo maledetto tabù sul denaro. Il denaro è uno strumento che tutti volenti o nolenti dobbiamo imparare a parlarne in modo proattivo così da imparare e da correggere i nostri errori. Errori che io stesso continuo a fare e che man mano anche condividendo il tutto tramite anche i vostri commenti costruttivi sto cercando di correggere e migliorare. Perciò ragazzi e lo posso dire con serenità d'animo no, non sto nascondendo nulla. E adesso arriviamo alla fine come vedrete il mio patrimonio rispetto allo scorso mese è sotto di circa 24.000 dollari. Ok, stiamo al resoconto più o meno penso che abbiamo finito gli aspetti finanziari vediamo un po' il resoconto vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante finora però mi sento dire che la sua esposizione è veramente tanto aggressiva è giovane ha non so bene le sue entrate da cosa vengano non so bene forse ha condiviso qualche parte del suo cash flow non credo lo faccia qui se ha un cash flow molto ampio è molto giovane è propenso al rischio è una esposizione un po' troppo aggressiva però come dire non è completamente insensata per una persona nella sua posizione quindi ricordatevi sempre che va giudicato un asset allocation addosso alla persona e non è un concetto astratto ci sta che una persona giovane possa essere sovraesposta ad alcuni asset a potenziali di ritorno più elevato ad esempio private equity è un investire in start up può avere ritorni molto più elevati può avere può avere quant'è il valore atteso probabilmente probabilmente non è più alto delle small cap stocks ci sono dei paper che riguardano su questo paradosso delle private equity non si capisce un po' bene il perché perché in teoria ha volatilità più alta e ha capitale immobilizzato più a lungo uno ci si aspetta che l'expected return sia più alto ma è sempre un po' un terno all'otto non c'è un mercato liquido però è pur vero che un influencer può avere un impatto anche su una private equity se lui investe in una posizione e ne parla tanto magari porta più customer a quella azienda e magari può avere un impatto notevole sull'azienda stessa ma anche se ha un ruolo d'advisor può avere un impatto notevole in quanto far connessioni con altre persone che possono essere utili per l'azienda non so se lui è in questa posizione però così via le individual stocks tecnologiche mi sembrano un po' un saltare su un carro potrebbe essere troppo tardi peer to peer lending per me è abbastanza monnezza e via gli etf non erano malissimo un po' troppo sbilanciati andando avanti se ci date un occhio per quel che riguarda la mia liquidità rispetto allo scorso mese sono sotto di circa 30.000 dollari se fate una somma i motivi sono due nell'ultimo mese ho letteralmente girato il mondo ho fatto un viaggio che partendo da Dubai è passato per New York Miami San Francisco Los Angeles Seoul Bali e ha fatto ritorno a New York per poi arrivare qui in Italia dove avevo degli eventi e tutti questi viaggi mi sono costati circa 20.000 dollari ma poi ne parleremo in dettaglio in un altro video e oltre a questo lo scorso mese e lo potete vedere nel mio foglio Excel nella riga MBD Deposit che è il mio conto emiratino ho pagato tutto insieme un anno intero di affitto nel mio nuovo appartamento di Dubai che vedrete se vi iscrivete al canale più l'arredamento che ci sto già mettendo dentro e per questo lo scorso mese ha speso ok quindi nella differenza di network ci sta ovviamente anche il cash flow che a quanto lui dice questo mese poteva essere piuttosto negativo perché ha speso un sacco di soldi ha speso circa 20-25.000 dollari perciò potete già immaginare vagamente da dove viene il negativo sul mio patrimonio rispetto allo scorso mese beh però non sappiamo le entrate comunque continuando a seguire il mio foglio excel nella categoria taxes questi sono crediti o debiti che devo ricevere o saldare a 3 o 6 mesi con le mie vecchie aziende a Londra che tra l'altro in questo momento pian piano sto tenendo ma anche di questo ne parleremo se vi iscrivete al canale e dopodiché nell'ultima categoria potete vedere alcuni miei investimenti alternativi che ancora posseggo il primo gli anelli è una roba è una roba un progetto di cui ho già parlato in un vecchio video ma che vedrete in futuro che comunque continuo a detenere ok questo è interessante ci sta mettere come asset o liability in genere asset eventuali altri 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 possedimenti che non sono facilmente liquidabili non sono liquidi come collezioni come macchine come lui ha messo degli anelli ci sta se hai degli orologi o dei pezzi d'arte io non ho niente ho un barbone di dio potrei decidere così di mettere a stato patrimoniale la mia collezione di board games dagli un valore e metterla nel mio patrimonio qual è il senso? il senso è che se un domani mi servisse liquidità quello è un asset che ho altrimenti cosa accade se io decido basta vendo tutto datemi 3000 euro per tutti quanti questi board games comparirebbero 3000 euro nel mio patrimonio dal nulla quindi può aver senso mettere a patrimonio certo lì bisogna trovare una threshold una soglia individuale che possa aver senso magari non so non ha senso che io metta a patrimonio un cavetto usb però magari se ho qualcosa di valore potrebbe aver senso collezioni macchine orologi arte in generale lui mette il lego millennium falcom a 923 euro 4.900 euro il lego è una collezione lego che ho comprato e di cui ho anche fatto un video all'epoca e dopo di che qualche mese fa avevo anche un orologio un tudor e lì potete trovare il prezzo a listino di quel tudor per concludere ci sta questa è una cosa che più non faccio perché non ho quasi nulla di valore di bene materiale patrimonio a fine febbraio 2023 ammonta 400.400 però cazzo stocks slash etf ci sta ci sta e cash stocks slash etf e cash trattino liquiditi fammi vedere fammi vedere attenzione stocks slash etf e cash trattino liquiditi ci sta ricardino ecco qua grande grande sono contento 69 dollari in negativo rispetto al a specie siamo persi questi importanti 400k grande Riccardo comunque non so quanti anni ha Riccardo Zanetti non so se ne avrà 20 20 più epsilon 400k tra i 21 e i 25 complimenti complimenti bravo bravo se continui a sto passo fra un po' mi doppi va benissimo e niente però ragionando su tutto il patrimonio 400k abbiamo più o meno forse 100k di etf un po' di più abbiamo questo 26 abbiamo questi due etf in questo in questo portfolio trading 2-1-2 da 27 e 27 abbiamo altri 90 qui stiamo sui 150 in etf un botto in individual stocks non abbiamo un breakdown per asset type sarebbe interessante ok 400.469 dollari in negativo rispetto al finire di gennaio di 24.189 dollari e ragazzi ci tengo a precisare se vedete numeri diversi rispetto allo scorso mese perché lo scorso mese avevo misurato un 418.000 dollari invece attualmente nell'excel vedete 424.000 dollari come patrimonio dello scorso mese la differenza sta nel fatto che sto ancora facendo qualche aggiuntamento delle volte anche io retroattivamente faccio modifiche se mi arriva non so un bill del mese prima faccio delle modifiche retroattive può succedere chiaro bravo Riccardo e sto ancora cercando di sistemare al meglio questo file Excel quindi alcune cose mi sfuggono e alcune cose le sto migliorando comunque per concludere come vi dicevo prima questo difetto rispetto allo scorso mese è motivato dal fatto che i mercati si non sono andati bene c'ha l'Abu Dhabi threat invece della della Ravenna threat è il v-mercate monster e quindi sono in negativo di qualche migliaio di euro da quel punto di vista ma anche e soprattutto dal fatto che durante lo scorso mese ho avuto circa 40.000 dollari di spese varie e questi per carità rappresentano un ridimensionamento del mio patrimonio in questo mese ma spero e mi auguro che durante i prossimi mesi questi possono rappresentare una grande opportunità e un grande vantaggio anche perché nel corso dell'ultimo mese con tutti i miei viaggi ho registrato veramente una valanga di contenuti anche molto interessanti che ovviamente verranno pubblicati in futuro quindi se non volete perdervi questo è interessante lui ha messo questo lo risentiamolo perché è interessante che parla del fatto che in teoria non ha messo come crediti alcuni contenuti che ha girato questo è dal punto di vista dell'accounting è interessante e mi fa anzi mi dà uno stimolo anche a me riascoltiamolo perché nel corso un ridimensionamento del mio patrimonio in questo mese ma spero e mi auguro che durante i prossimi mesi questi possono rappresentare una grande opportunità è un grande vantaggio anche perché nel corso dell'ultimo mese e mezzo con tutti i miei viaggi ho registrato veramente una valanga di contenuti anche molto interessanti che ovviamente verranno pubblicati in futuro quindi se non volete perdervi iscrivete ok diciamo che non li ha contabilizzati ovviamente però potrebbe anche essere una cosa nel senso che girare un video essere pronta a pubblicarla sapere che nei prossimi due mesi pubblicherò cinque video e avere delle stime di quanti soldi porterà un video può anche essere qualcosa messo ad asset come crediti come stime di futuri compensi questo è interessante non l'ho detto lo sto esplorando io come pensiero e ci sta cioè tra le due fratelli gemelli uno in cui sta in questa situazione un altro che sta identica situazione ma ha già cinque video belli montati già pagati i costi di produzione e pronti soltanto ad essere pubblicati quello è un asset in più poi dovrebbe essere interessante metterlo in contabilità tipo un rateo attivo grazie Magic TV ma comunque possono rappresentare per quel che mi riguarda rappresentano anche un piccolo asset che ovviamente non posso scrivere a patrimonio ma è comunque del lavoro già fatto che in futuro dovrebbe garantirmi una fonte di reddito semplicemente per quel che mi riguarda i soldi sono stati spostati in qualcosa che non si può misurare a soldi ma che potremo vedere tra qualche mese se continuate a seguire questa rubrica ok l'ha detto comunque se vogliamo fare un commento finale alla diversificazione del mio patrimonio abbiamo un 72% di stocks oh ecco qua 72% di stocks però va fatta la distinzione dai miei conti abbiamo un 150 su 400 che fanno meno del 40% in ETF quindi possiamo dire che più o meno siamo questo è metà ETF metà individual stocks ok quindi 72% siamo a metà ETF di cui metà emerging metà developed anzi con un po' più di USA perché nel suo ISA ha soltanto USA e l'altro 35% circa individual stocks un po' di peer-to-peer lending un po' di crypto un po' di private equity sottostimate secondo lui perché alcune hanno già triplicato e cash e così via è una torta molto aggressiva anche per un giovane non è aggressivissima se pensiamo a qualcuno che sappiamo già oggi avere il sangue freddo di non fare cappellate e vendere da qui ai prossimi 20 anni non so lui come si sente non so lui se ha esperienze dell'ultimo crash covid sarebbe stato interessante ma io l'ho detto mille volte non lo so io se lui ha già provato sulla sua pelle cosa succede a vedere un portfolio del genere e perdere il metà e sotto questo qui nelle 5 settimane di covid da febbraio al 20 marzo 2020 un portfolio così ha perso il 50% quindi sarebbe interessante sapere se lui ha già sullo stomaco questa esperienza di perdere 200k non credo quella cifra lì però un portfolio così deve essere pronto a perdere anche il 50% o andare sotto in drawdown del 50% 5,6% di peer-to-peer lending un 7,2% di crypto un 8,3% di private equity un 4,2% di soldi liquidi e un 2,7% di investimento la parte in questo momento in difetto è la liquidità che nei prossimi mesi devo cercare di riportare almeno un 10% mentre per quel che riguarda il resto mi ritengo a me però sono più che soddisfatto quindi che dire mi droppa non so come posso fare iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri video e se volete continuare a seguire questa rubrica lasciate un mi piace se volete che questo video raggiunga il maggior numero di persone 50 volte chiede di iscriversi al canale e condividere il video spero che appreziate tutta la trasparenza che sto cercando di infondere nel mondo della finanza personale in Italia detto questo noi ci vediamo ok perfetto Riccardo fantastica trasparenza complimenti per il patrimonio della tua età io la tua età per i prossimi 10 anni stavo a un decimo del tuo patrimonio per cui stra complimenti giudizio sul portfoglio l'ho dato più volte durante il corso di questo video un po' troppa pubblicità per cui è un po' difficile capire quanto sia quanto sia effettivamente una pubblicità questo video da quanto sia un semplice gesto di trasparenza capisco che magari se un prodotto lo usi e lo ami dare il proprio affiliate ci sta ci sta lo faccio lo faccio anch'io però certo se sono 100 prodotti fa un po' strano che si è un po' strano Grazie a tutti